I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato un 31enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentato furto aggravato. Poco dopo la mezzanotte i militari sono intervenuti in piazza Giulio Cesare per sedare una lite tra due persone. Uno dei due uomini, infatti, in base a quanto tempestivamente ricostruito dai carabinieri, era stato vittima poco prima del furto del proprio telefono cellulare. Il malcapitato, un 34enne originario della provincia di Modena, ha riferito ai carabinieri che l'indagato gli avrebbe rubato il telefono sfilandoglielo dalla tasca mentre era seduto su una panchina in attesa dell'autobus per rientrare a casa. Quindi l'accesalite, nel corso della quale l'arrestato avrebbe tentato di sottrarsi alla vittima, per la quale però risolutiva è stata l'iniziativa degli uomini del nucleo radiomobile che hanno perquisito il 31enne trovandolo in possesso del cellulare nascosto all'interno del proprio pantalone. Lo smartphone è stato riconsegnato al proprietario e il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha convalidato l'arresto.